In un'opera appena inaugurata ci è sembrato assolutamente surreale trovare già delle buche e dei dossi che possono rendere pericoloso il transito delle biciclette. La pista ciclabile in via Benedetto da Maiano è stata inaugurata solamente qualche giorno fa, ma già fa parlare di sé. A segnalare infatti i problemi di un tratto della nuova corsia per bici è Daniele Farsetti, candidato sindaco di patto civico per Arezzo. È stata realizzata un'opera pubblica pagata con i soldi di tutti i cittadini che al nostro giudizio ha delle caratteristiche di non perfezione. Ci sembra quantomeno una realizzazione sciatta e una realizzazione che pone delle problematiche anche di sicurezza, perché in una pista ciclabile, che lo voglio ricordare a tutti i cittadini, ha delle caratteristiche specifiche e pone delle responsabilità in capo al comune nell'ipotesi di qualche tipo di incidente. fa parte del codice della strada, quindi non è un semplice marciapiede, è una parte della sede stradale. La cosa che ancora di più ci addolora e ci mette in preoccupazione è il fatto che questa struttura debba collegare la scuola media, la scuola elementare e l'asilo del plesso della Tricca con il resto della rete delle piste ciclabili del comune. Quindi i fruitori di questa struttura sono soggetti particolarmente sensibili e questo ci pone una preoccupazione ancora maggiore rispetto a questa. La cosa che sottolineiamo e che abbiamo voluto anche ribadire è la sensibilità che questa amministrazione comunale, il sindaco Ghinelli, ha per la mobilità dolce e per la mobilità con le biciclette. Ecco, mobilità dolce, mobilità green, quali sono invece i vostri progetti? Assolutamente, noi vogliamo realizzare una revisione completa del piano urbano della mobilità, del PUMS, della mobilità sostenibile, perché pensiamo che la mobilità della bicicletta, la mobilità tramite mezzi pubblici e non impattanti sia il futuro anche della nostra città. Una delle prime cose che vorremmo realizzare sono delle autostrade per biciclette, ben separate dalla carreggiata destinata alle autovetture, nelle direttrici principali della nostra città che portano a centro, via Giotto, via Fiorentina, via Vittorio Veneto. Questo darebbe modo veramente di poter cominciare a pensare di organizzare la propria vita non più solo viaggiando in macchina ma potendo utilizzare un mezzo alternativo come la bicicletta.